Una carezza, un abbraccio, un sorriso, gesti semplici che scandiscono le giornate senza tempo di chi vive nella malattia agli ultimi istanti della propria esistenza. A regalarli ogni giorno sono i volontari, gli assistenti, i medici della Fondazione Faro, da 40 anni accanto a chi ha bisogno di cure palliative specialistiche a domicilio e nei suoi hospice. La presentazione del bilancio sociale della Fondazione Faro relativo al 2022 è stata l'occasione per festeggiare la delibera del Consiglio Comunale della città di Torino, grazie alla quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a Oscar Bertetto, cofondatore della Faro, per aver contribuito a creare una rete di professionisti rivolti all'attenzione al malato nel suo complesso, dando risalto ad ogni aspetto della malattia. Durante la serata sono stati presentati i dati relativi all'attività svolta dalla Faro, che nel 2022 ha assistito 1.135 pazienti a domicilio e 431 persone nei suoi tre hospice, garantendo 47.774 giornate di assistenza. Il Servizio di Psicologia della Fondazione ha portato avanti le iniziative a supporto delle famiglie, come il progetto Protezione Famiglie Fragili e il servizio Faro Dopo, dedicato alle persone che hanno subito un lutto, fornendo sostegno a 652 nuclei familiari. Giugno mese della ricerca in cure pagliative, oggi in notizia abbiamo la città di Torino ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Bertetto, che è uno dei cofondatori della Fondazione Faro. Pochi giorni fa abbiamo chiuso un accordo quinquennale con l'Università di Torino, che porterà a 430.000 euro erogati per fare una serie di cose, per fare cultura di cure pagliative. Direi che meglio di così non si può fare. Bertetto è stato, con il professor Calciati, il fondatore della Faro. Lui personalmente ha sottoscritto l'atto costitutivo 40 anni fa e che venga riconosciuto a lui per la Faro, io credo. Questa cittadinanza ci riempie di orgoglio e ci fa dire che quello che è stato pensato allora, dobbiamo continuare a portarlo avanti con grande coraggio, con grande animo, con grande entusiasmo come abbiamo sempre fatto. Io vengo da un'esperienza in cui quando gli ammalati raggiungevano le fasi avanzate di malattia purtroppo se rimanevano in ospedale venivano circondate da un paravento e lasciate sole di fronte alla morte e se venivano dimesse c'era la famosa frase non c'è più nulla da fare portatelo a casa e quelli erano i tempi da cui ci si muoveva. Lentamente si è capito che in effetti nelle fasi avanzate di malattia c'è molto da fare sia dal punto di vista di controllo dei sintomi, in primo luogo il dolore ma non solo e in secondo luogo anche come relazione con il paziente e i suoi familiari. Io credo che la Faro abbia insegnato che la medicina contemporanea non può essere soltanto tecnologia non può essere soltanto scienza intesa come sperimentazione ma deve essere anche relazione e comunicazione con la persona malata. Fondazione Faro è una gamma di servizi altamente qualificati, professionisti nel campo medico ma soprattutto un abbraccio caloroso, umano, gentile, in un momento delicato come il fine vita. 153 collaboratori tra dipendenti e liberi professionisti in aumento rispetto agli anni precedenti. Il motore della fondazione però sono senza dubbio i 217 volontari che ogni giorno gratuitamente offrono le loro mani, i loro sorrisi e il loro grande cuore a chi ha bisogno. Eravamo 208 invece siamo aumentati i 217 e abbiamo in corso ben due corsi di formazione nuovi uno a Lanzo e uno a Torino perché abbiamo bisogno di nuovi volontari perché i servizi e le attività della Faro, chiamiamo le attività della Faro, sono in costante aumento. Abbiamo maggiormente bisogno di nuovi volontari che si prestino a fare il loro servizio a domicilio perché aumenta il numero dei pazienti al proprio domicilio.